e amici di heavy metal webs in buona serata dal vostro flames qui con voi stasera per la regia di una nuova fantastica intervista con chi con chi ce lo dice la nostra intervistatrice di stasera che è la nostra francesca cipriano ciao francesca ciao fabio buonasera ciao a tutti e niente stasera abbiamo niente di meno che nick stavio degli eterna idol e quindi cosa dici se lo facciamo entrare subito in diretta ma direi di sì 3 1 via ciao ragazzi ciao come state tutto bene tutto bene tu tutto bene dai si fa per dire ormai con questo periodo però ne approfittiamo appunto per fare queste cose quindi per parlare comunque di musica siamo sempre positivi certo allora pronto yes vado con la prima domanda mi sentite bene tutto bene tutto bene perfetto tutto bene ok parto con la prima allora vai scusa se non guardo di fronte ma ho il foglio davanti a me sono alla vecchia mania tranquillo tranquillo allora di eterna idol sono una band relativamente nuova ma siete tutti musicisti di alto livello quanto pensi ci sia di diverso e quanto di simile alle vostre realtà alle nostre realtà intendi altre altre realtà parallele che abbiamo che ognuno di noi ha o beh diciamo che eternal idol inizialmente è nato come un progetto in pratica ci siamo subito resi conto che la chimia era tale che ha fatto sì che siamo veramente una band a tutti gli effetti quindi non non è un progetto come altri mi hanno chiesto mi hanno chiesto se questa era una cosa come dire non dico estemporanea però che magari accompagnava anche altri progetti paralleli che avevamo per quello che riguarda me io ho sempre avuto gli allovays come mio gruppo principale però gli eternal idol sono diventati a loro volta il mio gruppo principale adesso quindi in realtà quello che io faccio con gli eternal idol parlo chitarristicamente o anche a livello compositivo non è né più né meno di quello che facevo prima con gli allovays perché comunque non è stato fatto non è stato fatto non sono state fatte delle scelte a tavolino quindi facciamo una cosa piuttosto che un'altra la cosa fondamentale degli eternal idol è che ognuno di noi se mi passi il termine è dentro le proprie scarpe capito quindi nessuno di noi fa un qualcosa ed è stata anche diciamo quando ci siamo trovati assieme è stato anche un presupposto fondamentale dato che non siamo dei ventenni ok quindi ognuno sa io penso che quando hai un comunque hai il tuo stile è giusto mantenerlo è giusto come dire eh che ognuno di noi porti un qualcosa di personale e questo secondo me è molto importante ha delineato il nostro sound quindi ehm sicuramente ognuno di noi poi ha avuto o ha altre esperienze altre band parallele e quando poi quando entra negli eternal idol suona o canta o come come si suol dire porta comunque quello che che ha dentro negli eternal idol e il sound che abbiamo è il connubio di queste cinque cinque realtà queste cinque esperienze capisci quindi non è che abbiamo detto facciamo una cosa più ehm come dire hollow vase perché io vengo dagli hollow vase o più rapsodiana perché fabio viene nel rapsodio ok è una cosa che si è delineata così senza e la cosa la cosa bella è che la l'etichetta la frontiers stessa non ci ha messo nessunissima pressione per questo anzi ti devo dire che quando abbiamo firmato il primo contratto l'abbiamo firmato senza avere una demo senza avere nessun pezzo da far sentire loro per per farvi capire come come è nata questa questa band abbiamo raccontato cosa abbiamo descritto cosa avevamo in testa di fare con gli elementi che erano coinvolti tanto di cappellata a casa discograficata che non vi ha messo tra virgolette dei paletti certo certo infatti ci troviamo benissimo siamo qui a con con questo secondo album e ce ne sono già altri in programma capisci bene bene spero di aver risposto alla tua domanda iniziale parto con la seconda fabio ha una voce altisonante ed è ed inevitabilmente riconoscibile questa è un'arma a doppio taglio perché rischia di creare certe aspettative nei fan per fortuna fabio hanno voce ha una bella versatilità e può fare diverse cose come già dimostrato quali sono stati i riscontri e la critica del devoto diciamo che l'idea di avere le due voci di avere le due code lead singers maschile e femminile ha fatto sì che il progetto in sé la band sia molto molto varia nel senso che ci sono stati comunque anche nel primo nel primo disco e ci saranno anche nel secondo degli episodi in cui ha cantato solo fabio alcuni pezzi oppure nel primo disco georgia in questo caso claudia ha cantato comunque dei pezzi solisti però nel complesso il fatto di avere i due cantanti prende più molto più più snello il tutto rischi di ho visto che i commenti sono sempre stati è molto bello perché normalmente chi ha due cantanti molto spesso utilizza la parte femminile per fare delle parti più 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 heavy più anche growl screaming mentre noi abbiamo due cantanti che sono melodici quindi parlando di fabio tornando alla domanda ho visto solo commenti positivi perché oltre al fatto che lui con l'esperienza che ha riesce ad inserirsi secondo me in qualsiasi contesto e tutti i gruppi che ha e che ha avuto l'hanno dimostrato in più è anche e dentro anche un contesto diverso dal solito che penso lui abbia esplorato in parte solo con i live che ha fatto con i camelot in passato nel senso di avere anche delle presenze di delle lead vocals femminili assieme a lui e questo io ho visto che è stata la cosa che ha sempre generato commenti positivi e un in generale un come dire c'è il nostro punto di forza diciamo ok se ho visto critiche sono state di altro tipo di del genere proposto del songwriting però per quanto riguarda le voci e fabio in particolare sì mi è capitato anche di leggere perché abbiamo anche abbiamo fatto delle canzoni che non sono propriamente sinfoniche anche se siamo diciamo abbastanza catalogati come metal sinfonico quindi magari qualcuno è normale che faccia l'accostamento con i rhapsody e preferisce magari vederlo sempre in quelle vesti ok però in generale sono sempre stati molto positivi i commenti sulle voci in generale non solo su fabio beh i commenti commenti o critiche negativi ci sono sempre meno male ma penso sia anche sia normale e rispettiamo chi fa basta che non siano offensivi ovviamente no ci mancherebbe adesso le critiche offensive insomma chiamiamoci un attimo come posso dire una parte con una domanda un po scomoda un po come si dice girare nel coltello nella piaga cosa mi puoi dire sulla vicendamento di camilla e giorgia a favore di erico e claudia ma diciamo che stai sono sono cose come dire secondo me che devono rimanere all'interno di una band se ci sono come dire i panni sporchi vengono lavati come si dice si lavano in casa si lavano in casa e penso sia una cosa io ho già visto come è stata colta claudia sin dall'inizio anche prima ancora di proporre qualcosa con lei alla voce quindi ho visto la gente molto molto anche diciamo entusiasta di questo cambiamento però forse ci hanno era un come dire si aspettavano veramente di vedere se avevamo in un certo senso rimpiazzato parlo soprattutto di di giorgia perché comunque le voci sono sempre in primo piano forse erano come dire curiosi di sapere se avevamo fatto la scelta di rimpiazzare con un tipo di voce simile che normalmente è quello che qualche la gente si aspetta anche in contesti anche in gruppi più famosi quando c'era il cambio di cantante ci si aspettava magari appunto di di vedere se veniva scelto tra virgolette un clone oppure un cantante diverso con una sua personalità noi abbiamo abbiamo fatto una scelta anche lì non calcolata a tavolino però sicuramente questo con un tipo di voce come claudia ci ha portato un po più fuori dall'elemento hard rock che avevamo all'inizio in alcune canzoni e non non in tutto il primo album ovviamente e quindi quello che è successo tra noi rimane tra noi e posso solo parlarti dell'aspetto puramente artistico per cui per cui per il quale abbiamo fatto poi una scelta di sì ma no ma infatti se per quanto riguarda la batteria enrico per quanto riguarda enrico è la stessa cosa la stessa differenza secondo me che caratterizza enrico rispetto a quel che era camillo prima siamo usciti un po di più dall'hard rock e siamo andati un po più sul metal comunque ok se vuoi vedere questo cambiamento diciamo che la matrice hard rock se prima era un 30 70 adesso è un 15 85 capito ok sì infatti l'ho notato anch'io che dal debutto a questo avete fatto un cambio nel nel genere insomma in più poi ti dirò se ci sarà qualche domanda anche per qualche concerne l'aspetto compositivo capirai che questo non è solo una scelta di sound generale ma deriva anche proprio da alcune esigenze compositive ok forse ci può ci possiamo allacciare con quella che ho scritto io sembra che claudia abbia una preparazione canora aspetta scusa mia operistica puoi dirci qualcosa di più sul suo potenziale le differenze con l'ottimo lavoro di giorgia sul debutto sì claudia sicuramente ha un'impostazione più classica però che diciamo che per come si è sviluppato se avessimo avuto claudia dal primo disco probabilmente il songwriting sarebbe stato più simile a questo secondo sarebbe stato diverso perché anche se la composizione di un disco di questo di questo tipo come molti penso sappiano non si svolge semplicemente facendo delle prove tra di noi ma in un certo senso se hai un po di esperienza quando si scrive la parte strumentale la prima cosa che fai è farla calzare con i cantanti che tu hai a disposizione quindi l'aspetto diciamo operistico ovviamente claudia la conoscevamo già aveva già partecipato con qualche piccola parte in alcuni dischi degli allways dove aveva appunto cantato come come soprano diciamo quindi questo questa 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 differenza come dicevamo già come ti rispondevo nella seconda domanda è stata come dire soprattutto da me ben accolta nel senso che per quanto riguarda l'hard rock nonostante io arrivo dall'hard rock compositivamente tendo invece a prediligere altre scelte musicali è come dire se mi vedi suonare Guns N'Roses dici ma Nick è un chitarrista hard rock però io non scriverei mai una canzone così per dirvi mi diverto a suonarla però non la comporrei mai ok se volessi paragonare gli eternal idol a qualche altro gruppo per far capire a chi non vi ha mai ascoltato cosa fate potresti farlo qualcuno ha detto camelot e rhapsody sì ho letto anch'io quel commento e devo dire che mi ha fatto molto piacere magari noi non siamo un gruppo che fa non abbiamo nel primo disco forse c'era solo un episodio lo facciamo speed metal ma per quanto riguarda le linee vocali alcuni arrangiamenti orchestrali diciamo l'ambientazione generale è un accostamento che trovo che trovo corretto come potrebbe esserci qualche influenza nightwish sicuramente più che sulle parti vocali proprio sul diciamo sul groove dei pezzi in cui sono dei pezzi che prediligono il mid tempo o comunque non per farla diciamo semplice meno doppia cassa di batteria ma un dei groove molto più più pesanti anche ok quindi questo è non penso non abbiamo inventato chissà cosa però già per per essere solo il secondo album penso che abbiamo un sound ben delineato e torno a dirti che questo questo è possibile proprio perché negli eternal idol ognuno porta quello che ha quindi io ti parlo di esperienza insomma sì anche come dire se io suono ti faccio un esempio per dire no i deep purple con steve morse steve morse è entrato nei deep purple ha fatto diciamo è steve morse non è black moor camuffato che quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di avere portiamo nel nostro nostro stile e quindi questo sicuramente avrà delle influenze come tutti ascoltando altri gruppi puoi trovare gli eternal idol qualsiasi qualche altra similitudine e però penso che alla fine il nostro suono sia comunque un qualcosa di personale fabio ci sono per caso domande no non ancora vai pure non ancora vado e invece l'etichetta di symphonic power metal come ti va stretta o esprime bene quello che proponete guarda io non voglio dire sai alcuni non si sentono di appartenere ad un genere piuttosto che ad un altro io l'unico quindi io accetto qualsiasi nel senso è chiaro che come dicevamo adesso le influenze di ognuno di noi possono arrivare appunto dal power dal symphonic eccetera l'unica cosa che a cui non mi sento di appartenere e vedo comunque ancora presente è il prog perché non non penso che siamo un gruppo prog magari tecnicamente alcuni di noi potrebbero fare potrebbero essere potrebbero avere la preparazione per fare prog o le influenze io personalmente un genere che ho sempre ascoltato non perché ho acquistato dei dischi prog o perché non mi piace il prog semplicemente penso che noi non siamo un gruppo prog quindi non non capisco come mai ogni tanto veniamo un po etichettati anche così per quanto riguarda i generi che hai detto te sicuramente si sente che deriviamo da quei generi musicali come per dire l'aspetto per esempio hard rock potrebbe essere solo su qualche suono per esempio sul suono di chitarra sono di basso però non è assolutamente non siamo assolutamente una band che fa hard rock non piacendomi l'hard rock oggi purtroppo per la situazione che c'è non è facile uscire sul palco per i concerti ma quando ci saranno più possibilità come farete a far conlimare i vari impegni di fabio beh ormai come dire sia gli impegni di fabio sia i nostri vengono programmati vengono programmati per tempo quindi si sa si saprà mesi prima quindi diciamo che la cosa migliore da fare quando più i musicisti di una band sono coinvolti in altri progetti in altre band è cercare di strutturare i live di raggrupparli in un periodo di tempo definito o in più periodi definiti quindi se parliamo di fare date a spot quindi non un tour ma date a lontane una dall'altra e in un periodo di tempo abbastanza lungo è chiaro che potrebbe esserci potrebbe esserci un problema ma non solo con fabio anche per qualsiasi altro elemento della band che abbia altre cose quindi come abbiamo fatto per il primo disco abbiamo concentrato un tot di date in un periodo di tempo che era di circa un paio di mesi e lì non ci sono problemi chiaramente ci parliamo prima insomma quindi non vedo particolari difficoltà abbiamo una domanda che mettiamo e leggo subito allora Ivan Gaudenzi dice sei un chitarrista hard rock come hai detto precedentemente quali sono i chitarristi e le band di tua ispirazione personale? allora premetto che non sono un come dire un grande ascoltatore io penso di avere circa 300 cd quindi non ho ascoltato i gruppi grandi gruppi storici e poi sono diciamo un ascoltatore che si quando trova veramente un prodotto che gli piace una band che gli piace tende a comprare magari la discografia quindi io sarei Deep Purple dipendente Beatles dipendente The Zeppelin dipendente per quanto riguarda altri gruppi dell'hard rock mi dice da fare una grande come dire secondo me distinzione tra l'hard rock americano inteso come come dire come forse air metal non lo so per dire a me piacciono molto di più i Dokken, i Lynch Mob, i Van Allen che non diciamo i Gans o altri gruppi che sono un hard rock secondo me diverso ok? quindi per me la mia se devo guardare all'hard rock per me la mia maggiore influenza è George Lynch per esempio George Lynch per tanti motivi non solo per il songwriting ma per l'attenzione al suono, alla produzione che ancora adesso nonostante abbia penso 65 anni è incredibile ogni prodotto che esce con George Lynch per me è veramente un piacere ascoltarlo perché è fatto con come dire è sempre fatto al top poi un altro come dire un'altra band un altro chitarrista che per me è fondamentale è Malmsteen anche se lì diciamo che siamo più nel metal che non nell'hard rock Malmsteen poi ha fatto molte cose anche come classica scusa parlavi di chi? ha fatto di Malmsteen che ha fatto cose anche con le orchestre dietro le spalle certo 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 sì ho fatto un live vent'anni fa mi sembra per chitarra e orchestra sì live in Giappone è bellissimo col video eh sì certo ecco per esempio Malmsteen nonostante sia uno dei miei preferiti sai si è un po' perso con gli ultimi album come come produzione secondo me il suono dei dischi è è al limite della decenza e non mi spiego il motivo cosa che George Lynch non farebbe mai per esempio quando ascolti un prodotto con George Lynch è sempre ben fatto ben confezionato ma Malmsteen non capisco cosa abbiamo voluto fare negli ultimi anni però per me rimane il numero uno assolutamente come se l'hanno infatti battezzato il maestro delle sei corde insomma non è da poco infatti tornando a noi allora il video Into the Darkness che è la traccia numero uno sull'album è fatto molto bene allora quando noi facciamo una preproduzione per le voci viene fatta diciamo più che adattando subito dei testi che Fabio o Claudio hanno a disposizione viene fatto in un certo senso cantando una melodia che potrebbe che ha delle parole all'interno ma che non sono in quel momento un inglese vero e proprio nel senso si fanno delle cose in rima per capire se la linea vocale funziona bene deve anche suonare bene anche una persona che non conosce l'inglese quindi quando siamo arrivati in quel punto del pezzo per enfatizzare quella parte che è come un forse l'apoteosi del di quell'interludio è venuto spontaneo a Fabio cantarlo in italiano proprio perché molto spesso la lingua italiana è molto più come dire musicale proprio in un contesto forse nel momento più classico anche del disco come arrangiamento ok quindi è stata una cosa che è nata è come dire come mai in quella solo lì hai fatto un bending tiratissimo anziché fare una parte in tapping è un linguaggio musicale appunto che ha un cantante che ha un chitarrista fa sì che in quel momento ti venga un qualcosa di anzi ti posso dire che in quel caso lì il testo che è uscito in quel momento è stato tenuto non è stato poi riscritto adattando qualche parola è molto bello comunque il video ci sono questi richiami che ho notato anche dai primi video questo contrasto bianco e nero non so se sì sì noi cerchiamo di comunque di curare l'immagine e soprattutto che l'immagine della band dell'artwork del disco del video delle foto che vengono proposte abbiano un filo conduttore ovviamente come come si dovrebbe sempre fare secondo me quindi non è non è fatto a caso o come dire poi sicuramente alex di alex video che ha curato il video ormai ci conosce e non c'è neanche bisogno di dirlo quindi sai già come andare come quando andiamo in non so quando mixiamo i nostri dischi a i domination studio andiamo lì perché sappiamo che sanno per esempio in questo caso simone mularoni sa già il suono che abbiamo in testa quindi chiaro che va in un certo senso sul sicuro esatto come se si dice scusami siete in una botta di ferro perché sapete già che avrete quel risultato certo sì abbiamo abbiamo un team secondo me se arrivi ad avere un team di lavoro che copra vari aspetti a partire dall'etichetta discografica la produzione il video l'immagine c'è di tutto questo fa sì che tu ti possa concentrare di più su sulla musica perché gli altri aspetti diciamo vanno vanno già hanno abbastanza sul sicuro quindi ti concentri sul sound sulla composizione ok ci fossero sempre problemi poi per fare qualsiasi altra cosa diventa diventa stressante non diventa un piacere suonare invece deve essere comunque un piacere deve essere un modo anche per passare il tempo visto che ovviamente non infatti sì normalmente infatti normalmente io per esempio compongo in questi periodi nel periodo invernale perché ovviamente si presta anche forse per il genere che facciamo probabilmente se facessimo alt rock sarebbe più da più estivo lo so però quindi a maggior ragione quest'anno con 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 quello a cui andiamo incontro e spero finisca presto ce lo speriamo tutti sto già anche se questo disco deve ancora uscire stiamo già pensando a delle idee per il terzo album proprio perché ti dico è un piacere quindi lo fai come non è che lo faccio che lo facciamo esclusivamente nel momento in cui sappiamo che dobbiamo fare un disco un gruppo una band che sta bene assieme scrive continuamente musica e poi quando è il momento finalizza magari su un cd quello che ha fatto la devi vivere diciamo non devi non deve essere un una cosa sempre che nasce a tavolino devo fare l'album adesso devo scrivere le canzoni non deve essere un obbligo una cosa imposta perché sennò poi perdi la voglia di farlo infatti ok allora particolare la cover del nuovo lavoro questa figura femminile illuminata da questa luce ha un chedi mistico gotico fantastico futuristico puoi dirci qualcosa in più in riferimento al suo sviluppo e al suo significato? allora l'idea è nata prima del periodo covid ma era appunto il ti posso parlare del messaggio diciamo generale che ha se mi fai parlare della cover ti parlo in un certo senso rappresenta un po' quello che era chiuso all'interno il significato dell'album e parla diciamo in generale di un qualcosa da cui si si può rinascere come come dice il titolo stesso o comunque dal fatto che la persona penso per come sono io per esempio o come oltre altre persone o comunque il genere umano tende sempre a passare a risollevarsi da periodi bui la storia è piena di questi esempi l'uomo normalmente ha una forza interiore che nasce proprio quando ce n'è più bisogno e quindi per noi questo simbolizza un po' una rinascita della band dopo un periodo un po' travagliato ma diciamo che c'è stato come può come può essersi anche in altre band e allo stesso tempo simbolizza appunto questa questa rinascita questa forza che le persone possono possono avere quindi molti si possono identificare in alcune cose in alcuni testi proprio perché da periodi di sofferenza passiamo quindi a un periodo a un qualcosa di più positivo e il messaggio del disco infatti è questo oltretutto mi ricollego a quello che dicevo all'inizio non è stato scritto dopo il covid però il messaggio è molto attuale giusto spero che questo appunto simbolizzi simbolizzi in un certo senso quando usciremo da da questo periodo difficile e sono sicuro che succederà presto e lo speriamo e questo questo avrà un un significato in più per noi che abbiamo che abbiamo fatto questo disco e abbiamo diciamo scelto questo titolo e questo messaggio quindi è molto attuale secondo me quello che abbiamo il messaggio che abbiamo voluto dire ok ok in pratica hai quasi risposto a una domanda che ti avrei fatto subito dopo te la leggo lo stesso lo immaginavo allora salto quella dopo poi ti faccio praticamente era l'ultima e ti faccio quella quella prima allora rena in senso tradotto vuol dire rinascita quando l'avete scritta non era ancora esplosa questa pandemia che ha coinvolto tutti noi avete avuto se mi passi il termine una sorta di premonizione che effetto fa o appunto rinascita intesa come cambiamento come gruppo voi all'interno vedi io infatti ti ho risposto prima infatti ci siamo collegati neanche parla poco poi ti chiedete nel pensiero eh vedi però mi fa piacere che tu abbia colto questo in effetti la sfortuna del periodo però è stato in un certo senso ha enfatizzato il tema di cui noi abbiamo parlato il messaggio che volevamo portare uno dei messaggi è questo che quando usciremo da questa cosa sarà un come dire un messaggio sarà una una cosa molto molto difficile io a certe volte quando vedo i telegiornali e vedo anche tutte queste personalità politiche scientifiche impegnate in questo dico beh tutto sommato fare musicista è molto più semplice di quello che fanno loro e mi chiedo come come possono essere già da un anno quasi ormai da febbraio essere impegnati in questo e penso che tutti gli altri perché non è che questo come dire escluda tutti gli altri aspetti che queste persone devono devono badare ogni giorno diciamo che questa è una cosa in più che ha eh portato via la maggior parte del loro tempo e allo stesso modo però devono portare avanti tante altre cose per parlo appunto anche dei medici o dei politici quindi penso non sia facile per nessuno e penso che quindi ognuno di noi c'è tiri fuori veramente il meglio di sé quando siamo ti faccio un altro esempio eh e questo non lo dico io ma lo dicono molti musicisti molti compositori quando tu hai una giornata completamente vuota libera o una settimana o un periodo di tempo e dici adesso scrivo una canzone finalmente ho il tempo di farlo normalmente non riesco mai a ritagliarmi il tempo per fare questa cosa che mi piace tanto fai il possibile per fare la canzone più bella che tu possa immaginare in realtà non ti esce assolutamente nulla mentre durante la vita di tutti i giorni tra una cosa e l'altra per esempio parlo per me che devo fare le canzoni le composizioni sono più sono più belle secondo me perché riflettono il periodo che tu stai attraversando quello che tu stai facendo quindi questo un po' lo noti anche in alcuni gruppi affermati normalmente i dischi migliori non sono mai i dischi quando questi gruppi sono famosi sono magari economicamente super soddisfatti ma i dischi migliori sono quando erano tra virgolette più sconosciuti e magari avevano più difficoltà a barcamenarsi nella vita di tutti i giorni però il disco era magari più diretto più come dire più indovinato forse ok va bene io ti faccio la domanda che ti devo fare prima di questa poi io con le domande ho finito poi non so se Fabio ne ha da farti ok Rina Sense è la canzone più lunga che chiude il cd che è anche quella che dà il titolo di questo lavoro puoi dirci il perché avete deciso di inserire un brano così lungo ecco questa forse è stata una cosa fatta a tavolino volevamo una canzone che racchiudesse un po' tutto un po' tutti gli aspetti del gruppo sia a livello compositivo sia per quanto riguarda le voci infatti parte subito con un momento acustico che mette in risalto le due voci parte con mi senti? scusami una cosa che non ho scritto che ho notato anche diversi cambi di tempo all'interno di questa canzone sì quello diciamo è una cosa che non abbiamo programmato diciamo è nata nella composizione come ti dicevo il brano voleva essere appunto un come dire la nostra piccola suite o la nostra star way to heaven capisci nel senso dove si vedono ma non solo perché la canzone deve essere la più bella di tutte ma perché deve mettere in mostra tutti gli aspetti tutte le peculiarità che può avere la band e i suoi singoli elementi in questo caso sicuramente le voci hanno fatto il lavoro più evidente però l'aspetto sinfonico in alcuni momenti è molto molto potente molto sentito l'aspetto acustico nell'intro che diciamo l'intro è più acustico quindi più chitarristico inteso come come acustico come strumento proprio chitarra acustica mentre l'interludio centrale è più più una parte di pianoforte e di arrangiamento d'archi per quanto riguarda le voci abbiamo appunto sia i cori alla nightwish in alcuni per esempio nei precorus poi abbiamo un ritornello con una linea particolarissima che ha ideato Fabio che è sicuramente uno dei ritornelli più particolari del disco e abbiamo un'altra parte in cui Fabio canta molto heavy che è la diciamo a tre quarti pezzo c'è un'altra parte completamente diversa da tutto il resto della canzone e come c'è una parte molto bella dove canta Claudia molto operistica molto sentita a metabrano ci sono gli assoli di chitarra sia hard rock che un po' più che un po' più tra virgolette virtuosi un po' più manistiniani in alcune parti quindi c'è un po' tutto questo è stato è stata una cosa abbastanza voluta che avevamo fatto proprio con Fabio anche in un disco degli Holloway in passato penso di averti detto un po' tutto di questa canzone ok allora io ho una domanda dagli ospiti nel 2017 eravate in tour tra Italia e Spagna come andate che differenza stai notando tra la critica nostrana e quella estera beh due domande in uno direi beh per questo disco non ho ancora una risposta nel senso che sono uscite ho visto solo qualche recensione estera le recensioni normalmente con Frontiers escono molto a ridosso dell'uscita del disco abbiamo avuto delle recensioni bellissime le prime sia dall'Inghilterra che dalla Svizzera e dalla Germania per quanto riguarda per quanto riguarda l'Italia come dicevo prima è stata una band che è sempre stata molto bene recepita sia in sede live che appunto come recensioni quindi forse forse il primo mini tour che abbiamo fatto con il primo disco non è sufficiente per dire se siamo meglio recepiti all'estero posso solo dirti che abbiamo molti fan che ci seguono sono dall'America Latina quindi io sono assolutamente come dire non sono non voglio dire che assolutamente in Italia guardiamo solo i gruppi stranieri anzi io sono sono fiero di essere italiano e sono sicuro che se tu hai una proposta musicale valida l'Italia la apprezzerà sicuramente diciamo che gli italiani sono di un palato abbastanza fino quindi non è non sono facili da accontentare come non sono facili gli inglesi quindi da questo punto di vista quando arrivano più critiche che che elogi in un certo senso sono anche pronto ad accettarli come dicevo prima se non sono offensivi perché in fondo in fondo magari un qualcosa c'è sempre un qualcosa da cui devi imparare ok noi manteniamo la nostra identità però non voglio dire che gli spagnoli sono stati più caldi come accoglienza degli italiani perché non sarebbe assolutamente vero posso solo dire che ci sono dei posti in cui non vedo l'ora di andare a suonare perché l'Italia la conosco ma mi piacerebbe moltissimo andare in Giappone perché so che sono molto calorosi in America Latina lo stesso sapendo anche che Fabio è molto seguito quindi io sicuramente penso che sarebbe un'ottima occasione per testare diciamo quello che facciamo ok ho un'altra domanda dal pubblico anche se ve la metto ve la metto ciao Nick di cosa trattano i testi delle nuove songs che importanza hanno per le vostre canzoni mi ricollego a quello che ho detto prima il messaggio è un come può essere into the darkness in dark eclipse without fear trattano ognuno di noi può in un certo senso leggere in modo vedere in modo personale quello che è contenuto nei testi come un qualcosa sempre di rinascita di rivincita quindi è un messaggio positivo se fosse scritta adesso into the darkness probabilmente sarebbe stata intitolata out of the darkness visto quello che stiamo vivendo però di base questo è l'aspetto non ti descrivo canzone per canzone non mi addentro nel testo perché comunque Fabio e Claudia sarebbero le persone più adatte per farlo ti posso solo dire che il messaggio generale è questo e quindi è importantissimo abbiamo cercato appunto di metterlo in musica ma anche visivamente nell'artwork del disco quindi anche il fatto appunto anche l'eclissi in un certo senso è un qualcosa che rappresenta questo il fatto che la luce si può diciamo il giorno può diventare notte all'improvviso però poi quando si riapre è bellissimo quindi questo è il messaggio generale che volevamo dare buono buono volevo farti una domanda io partendo dalle nostre dirette che abbiamo cominciato a fare più o meno in periodo lockdown anche un po' prima di tutto per dare un supporto ai musicisti in modo da poter far parlare loro di musica in un periodo che non era certo felice né per loro lavorativamente né naturalmente per il pubblico che ci segue ma soprattutto abbiamo cercato di fare un qualcosa di diverso per come ci dice supportare la musica vabbè soprattutto la musica italiana perché le interviste che abbiamo fatto sono tutte artisti o band italiane e un'altra cosa che è nata in quel periodo sono gli streaming cioè come tu avrai visto magari avrai avrai incrociato ci sono stati molti artisti che hanno fatto dei loro concerti in streaming cosa ne pensi di questa soluzione che ovviamente è un pagliativo in attesa di poter tornare dai concerti come Dio comanda ovvero con il pubblico presente tutte le cose belle che ci sono intorno la fratellanza il versi una birra assieme eccetera eccetera beh penso che spero finisca al più presto però per ovvi motivi ma al di là di quello l'abbiamo in programma anche noi lo faremo appena sarà possibile l'unica cosa che non non ho diciamo la cosa che secondo me se fosse effettivamente un live dovrebbe essere in diretta come stiamo facendo questa intervista allora se sarebbe un vero live streaming il fatto che vengano registrati in un certo senso e anche post prodotti perché deve essere fatto bene come può essere fatto bene un live secondo me mi lascia un po' così nel senso che a quel punto il live streaming almeno che non duri un'ora e mezza un'ora e un quarto diventa in un certo senso una sorta di playback un videoclip playback quindi secondo me è un modo che hanno trovato i gruppi per far parlare di sé in un periodo in cui ci siamo trovati e in cui ci si è dovuti inventare in un certo senso qualcosa penso sia comunque un qualcosa di valido ma sicuramente sarà spero sia una cosa temporanea dovuta al momento in cui ci troviamo ecco preferisco preferirei come preferirebbero tutti fare dei live veri e propri se siamo arrivati a questo purtroppo meglio questo che niente ecco diciamola così bene bene io direi che siamo arrivati alla fine della nostra diretta lasciando lasciando alla fine spazio a Nick se ci vuole ricapitolare i punti salienti del disco ovvero quando è uscito quello che vuoi in chiusura così ti lasciamo un attimino carta bianca e anche per fare un appello a chi ci sta guardando di ascoltare di dare comunque chi non vi conosce di dare un ascolto su Spotify o vedere i vostri videoclip per capire cosa fate e insomma poi dici tu dici tu carta bianca ok allora gli Eternal Idol come dicevo prima non sono un progetto ma sono una band vera e propria penso che il nostro punto di forza sia appunto questo connubio di di melodia data dalla presenza di una voce maschile e femminile e come abbiamo detto come mi avete chiesto le nostre sicuramente ognuno di ognuno di chi ascolta si potrebbe trovare delle influenze o un qualcosa possiamo ricordare un qualche gruppo un qualcosa che avrà già ascoltato e questo mi fa anche piacere è un penso che abbiamo un sound comunque nostro originale ma al di là appunto degli ascolti che si possano fare su Spotify o acquistando disco spero veramente che possiamo vederci presto presto live e sono sicuro che quando questo rinizierà in Italia sarà diciamo che ci sarà l'imbarazzo della scelta da questo punto di vista perché penso che tutte le band saranno come alla partenza di cento metri piani quindi ci sarà da divertirsi e noi saremo e noi saremo lì ok saremo lì anche noi perfetto e vorrei chiudere nel frattempo scusate dico solo l'ultima cosa quindi il disco esce il 6 novembre esce con un accompagnato da un altro videoclip quindi vi raccomando di se potete di dargli un'occhiata ci sarà un'altra sorpresa entro fine anno e un'altra sorpresa che non posso dire all'inizio 2021 quindi non parlo non è non sarà vi dico non sarà il live streaming che comunque faremo però ci sarà una cosa molto interessante che come extra che faremo nel inizio del primo bimestre penso 2021 benissimo benissimo io voglio chiudere con un appello visto che tu hai parlato di live e che sarà una partenza come i cento metri con tutte le band che non vedono l'ora e dopo tutti pronti di essere sulla rega e via esatto che saranno tutti pronti per per suonare il mio appello è date una mano agli artisti e ai locali che stanno soffrendo moltissimo in questo periodo e quindi andate andate più potete andare a vedere un concerto caldamente vi consiglio un concerto con musica originale per favore lasciate per ora i tributi e quelle cose lì lasciatele un attimino da parte per favore andiamo ad aiutare gli artisti che stanno creando questi dischi come gli Eternal Idol come Nick e anche su Hollow Aids e ragazzi perché se non diamo una mano agli artisti non ci sarà più musica nuova da ascoltare quindi penso che Nick sia d'accordo con me assolutamente anche se 8 dimmi Francesca vai vai so che è una cosa che va controcorrente però di non scaricare la musica piuttosto acquistare quel benedetto cd acquistate 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 cd non scaricate la musica perché vi dico la verità non so neanche come si fa io non ho mai scaricato niente sono capace proprio quando voglio ascoltare qualcosa sono arrivato a registrarmi dal computer col telefono una band che mi piaceva per capire chi è mi sono registrati col telefono sono proprio analogico da questo punto di vista no diciamo che giustamente adesso di modi per dare un ascolto preventivo legale c'è quindi ci sono piattaforme che ti permettono lo streaming anche solo uno per curiosità per capire giustamente il disco mi piace non mi piace però se potete ragazzi mettete 10-15 euro che sono l'acquisto di un cd o comprate dei gadget non so vi piacciono le magliette acquistate la maglietta la felpa insomma tutti aiuti che alle band anche in questo periodo fanno molto comodo quindi se se Nick in questa intervista vi ha entusiasmato vi è piaciuto andate a sentirvi di Eternal Island e dai andate a mettere su questi soldini in questo cd dai mettiamo questi soldini noi salutiamo Nick salutiamo il pubblico io saluto Francesca ciao Nick grazie ciao Sorgio grazie grazie mille e ci sentiamo scusami e ci sentiamo alla prossima diretta ciao a tutti ciao ragazzi grazie ciao ciao ciao